Pertanto, voi dobbiamo finalizzare con il portiere dentro l'area tecnica. D'altronde la squadra vincente debba andare avanti per fregare il controllore di palla. Ora siete pronti per suonare di questa partita? A sinistra, alla Corre Lungo. Stoppa te! Al centro, salta uno, via l'altro. Fin tanto che crossi, è tutto chiaro? Manano, manano. 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 Mano, manano. Ciao